è un gira in continuazione quindi è un casino arrivare alle spalle però essendo larga è più prevedibile nei movimenti capito no non arriva di corsa stavo fermo però io stavo proprio di fronte no non arriva di corsa stavo fermo però io stavo proprio di fronte a a a a a a a a Grazie a tutti.